Ciao, io mi chiamo Mauro Boero ho 52 anni e al momento sono molto felice perché finalmente sono giunto alla fine del mio percorso sono venuto qui in clinica dopo molte ricerche, dopo aver visto i video del dottor Palmas e sono contento di aver dato fiducia a questa clinica e al dottor Palmas e ai suoi collaboratori Musica ho già provato, ho già mangiato, mi trovo bene a parlare, sono contento, spero di continuare in questo modo Musica Mi agrada molto l'estetica perché comunque ha questo effetto di naturalezza non si sentono fastidi in bocca quindi praticamente ci si dimentica di avere un qualche cosa che non è nostro perché lo sentiamo praticamente come se fosse nostro Un saluto alla Moldavia e adesso si torna in Italia con un bel sorriso Musica 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 Grazie a tutti.